Senti, puoi dire al tuo amico di non fotografarmi con le stampelle, per favore? Franco, ti prego, lascia a stare, dai, non è il momento. Bella settimana bianca, davvero? Dai, amore, ti prego, non ricominciare, su, vai. Ti ho anche prenotato il treno, come volevi tu. Ah, grazie. Comunque sei riuscita alla fine a prendere qualche lezione di sci, no? Come no? Giusto il tempo per imparare come ci si spacca una gamba. E poi scusa, eh, quell'istruttore dice mi ha fatto pagare pure le lezioni che non ho fatto. Nemmeno quando ho fatto l'analisi. Buongiorno, le do una mano? Buongiorno. Amore, ma non mi hai mai dito che sei stata dall'analista? Ah, no? No, ma per quanto tempo, scusa. Beh, prima o dal secondo.